Contrabbando di gasolio agricolo, sequestro di beni per oltre 1 milione e 200 mila euro. Si scaglia contro i carabinieri, arrestato un uomo di 38 anni a Mussomeli. Cimitero Angeli, l'indignazione di una cittadina per i fiori rubati da diverse tombe. Caltanissetta, potenziamento della videosorveglianza. Vigili del fuoco, porte aperte ai cittadini per la settimana della protezione civile. Antologia Reporter, giovedì sera su TFN, la piscina comunale. Sport, calcio, serie D, turno infrasettimanale, mercoledì alle ore 15, Real Aversa, San Cataldese. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, su richiesta del Procuratore della Repubblica facente funzioni Salvatore Vella, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente, ai fini della successiva confisca di euro 1 milione e 258 mila 317. Il provvedimento di sequestro, ad oggetto denaro, beni mobili e beni immobili di un'importante azienda delicata, attiva nel settore della commercializzazione dei carburanti. Sono indagati gli amministratori Vigili, titolare formale dell'azienda, e il marito MC, gestore di fatto della stessa società. I due sono accusati di aver commercializzato illegalmente un quantitativo di gasolio agevolato agricolo, pari a circa 4 milioni 400 mila 893 litri, che ha alimentato il mercato di contrabbando del gasolio per autotrazione. In sostanza, i due coniugi imprenditori, mediante l'utilizzo di documentazione falsa, avrebbero venduto abusivamente e in nero gasolio agricolo a soggetti terzi che non ne avevano diritto, evadendo la CISA e l'IVA normalmente applicata al gasolio per autotrazione venduto nei distributori di benzina. Intanto, è in corso l'attività di perquisizione effettuata con il supporto di Aira, un cash dog, pastore tedesco di 5 anni, della Compagnia della Guardia di Finanza di Punta Raisi, specializzato nella ricerca del denaro contante nascosto, denaro cash, che si sospette essere stato occultato dagli indagati. Dall'attività di verifica fiscale, intanto, svolta dai funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, scaturita a seguito di una specifica analisi svolta dal reparto antifrode ed analisi dei rischi dell'ufficio delle Dogane di Porta Empedocle, sarebbe emerso che nel periodo 2013-2018 la società avrebbe utilizzato 62 libretti UMA di soggetti ignari e avrebbe emesso 4.517 fatture ed altrettanti documenti di trasporto falsi. Sono stati quindi sottoposti a sequestro preventivo 8 conti correnti, 5 conti deposito e titoli, 4 abitazioni, 18 terreni, un'autovettura ed un motociclo. Le indagini giudiziarie, intanto, sarebbero in fase di conclusione. Un uomo di 38 anni di Mussomeli è finito in carcere per i reati di resistenza pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. L'episodio si sarebbe verificato venerdì sera, quando l'uomo, sottoposto alla misura dell'affidamento in prove ai servizi sociali, avrebbe violato il divieto di allontanarsi dal domicilio dalle 21 alle 8. Sarebbe stata la madre a chiamare i carabinieri, dicendo che il figlio era uscito per ubriacarsi. Così i militari hanno iniziato la ricerca dell'uomo, senza però riuscire a trovarlo. Sarebbe stata sempre la madre, più tardi, a ricontattare il 112 e a riferire che il figlio era tornato a casa. La donna, preoccupata dallo stato di alterazione dell'uomo, avrebbe temuto per la propria incolumità. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, infatti, l'uomo avrebbe tentato di colpire uno di loro con una testata. Il militare, però, intuendo l'intenzione violenta di quest'ultimo, sarebbe riuscito ad evitare il colpo. A quel punto i due carabinieri hanno provato a bloccare il 38enne, che avrebbe reagito con calci e pugni. Nonostante le manette, però, l'uomo sarebbe riuscito ad afferrare uno dei militari, facendogli battere violentamente la testa a terra. A quel punto, nonostante il cellulare di uno dei carabinieri si fosse rotto, i due militari sarebbero riusciti a chiamare rinforzi. Ma non sarebbe finita qui. Una volta in caserma, infatti, l'uomo avrebbe continuato con il suo atteggiamento aggressivo, lanciando un tavolo e un cassetto contro i carabinieri, danneggiando anche un distributore di bevande, così da rendere necessario il suo trasferimento nella camera di sicurezza. I due militari, quindi, sarebbero stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso, dove sarebbero stati curati e dichiarati guaribili in una settimana. Per l'uomo, intanto, si sarebbero aperte le porte del carcere, così come disposto dal PM Dario Bonanno. L'arresto sarebbe stato, infine, convalidato dal giudice Nicoletta Frasca. Doveva essere una mattina per ricordare i propri cari con il gesso gentile di portare sulle loro tombe dei fiori, ma quando Chiara, a nome di fantasia per rispettare la volontà della nostra telespettatrice Nissena, è arrivata al cimitero cittadino di Caltanissette ed ha trovato i vasi vuoti per l'ennesima volta, ha deciso di condividere con noi la sua storia e quanto le è accaduto, perché da quanto ci racconta più volte nelle ultime settimane qualcuno si sarebbe appropriato dei mazzi di fiori freschi che aveva messo ai propri cari, cosa che anche altre persone le hanno raccontato e che hanno riferito a lei. È un'azione, un'azione da poco, ovviamente non è il fiore di per sé o il valore monetario del fiore, ma il valore affettivo, perché magari una sceglie anche il fiore più bello per il parente a cui vai a regalarlo e invece arrivi e trovi i vasi vuoti perché c'è chi passa il tempo evidentemente a scegliere i fiori gratis in questa maniera, togliendoli ad altri defunti. A chi ha tolto i fiori e ai suoi cari dice? Vorrei dire che è piuttosto triste, ma che sarebbe anche meglio fare solo una preghiera ai loro parenti che prendere i fiori da altri defunti e portarli lì. Non penso che un defunto caro sia d'accordo con un'azione del genere, quindi una mano sulla coscienza. Ed infine rivolge un appello. Sicuramente alle istituzioni cittadine e anche a tutti i cittadini di avere un attimo più di riguardo e di rispetto per il prossimo. L'obiettivo è quello di rafforzare il sistema di videosorveglianza esistente sul territorio e così il Comune di Caltanissetta ha già presentato alla Prefettura Nisseno un progetto elaborato dalla Polizia Municipale insieme alla Direzione Seconda Lavori Pubblici. Un progetto che si è messo a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020 del Ministero dell'Interno permetterà di installare nuove telecamere in città. Come Comune abbiamo aderito di recente ad una iniziativa del Ministero dell'Interno ha emanato un bando a chiamata e abbiamo candidato il nostro progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina per la relativa attuazione della misura. Il progetto che abbiamo predisposto è un progetto molto innovativo non si sovrappone all'impianto esistente del tutto nuovo e verrebbe a realizzarsi totalmente in fibra ottica con alimentazione autonoma. Noi contiamo con questo progetto di videosorvegliere delle zone non coperte dal servizio e che hanno problemi che attengono un po' alla sicurezza urbana e in genere ambientale ma anche fenomeni più ambie di natura anche criminale. Noi parliamo delle zone del quartiere Provvidenza dove pensiamo di installare delle videocamere finalizzate a contrastare fenomeni predatori ma anche fenomeni legati all'abbandono dei rifiuti, al degrado urbano che esiste in quella zona. Tutta l'area del mercato storico della Stata Foglia che in atto non è videosorvegliato rientra in questo progetto come anche l'area di via Ferdinando I dove c'è il mercato settimanale dove avremo un monitoraggio più completo dell'area e in più contiamo di videosorvegliare sempre per contrastare fenomeni che nel tempo si sono registrati sul territorio l'area di via degli orti. Diverse dunque le zone interessate tra queste si pensa anche agli impianti sportivi di Pian del Lago e poi ancora. Prevede anche l'installazione di sei telecamere che fanno lettura ottica delle targhe che a regime verrebbero a essere collegate con una banca data del Ministero la cosiddetta banca dati transiti che serve ad accertare per esempio il transito di auto per la quale è stata fatta denuncia di furto piuttosto mancanza di copertura assicurativa dei veicoli o mancanza di revisione o revisione a scaduta. Il progetto che abbiamo predisposto traguardo un importo di circa 250.000 euro per il quale è stato chiesto il finanziamento è al vaglio della Prefettura prima e poi passerà al vaglio del Ministero. Intanto si preannuncia la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Parco Balate. Noi a breve realizzeremo un impianto con risorse proprie dell'ente di videosorveglianza nell'area del Parco Balate proprio a tutela del patrimonio comunale lì c'è un'iniziativa del Comune finalizzata a rimboschire l'aria ma nel tempo si sono registrati danneggiamenti e furti. Per quanto riguarda invece la zona industriale l'area industriale e le strade sono passate di competenza del Comune di proprietà del Comune e quindi anche l'impianto che insiste l'impianto di videosorveglianza realizzata dall'ASI che insiste in quella zona passa nella visualizzazione della nostra centrale operativa quindi nel tempo stiamo cercando di mettere al regime tutto ciò che questi strumenti consentono per avere una visione globale e un controllo quanto più capillare del territorio. Hanno accolto i bambini insieme alle loro famiglie mostrando e spiegando il funzionamento di alcune attrezzature o ancora i mezzi a disposizione con i quali i vigili del fuoco svolgono quotidianamente il proprio lavoro effettuando le diverse tipologie di intervento. Il Comando Provinciale di Caltanissetta ha aperto la propria sede alla cittadinanza sabato 15 ottobre con delle visite nel corso della mattinata in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Abbiamo aperto sabato le porte della sede centrale del Comando Provinciale di Caltanissetta per far sì che i cittadini si sensibilizzino sempre più a quelle che sono le tematiche e i rischi legati al territorio cosa c'entrano i vigili del fuoco facendo vedere loro un po' quelle che sono le attrezzature che noi utilizziamo e impieghiamo durante le fasi del soccorso tecnico non solo ma anche attrezzature legate per esempio a eventuali interventi in territori impervi quali l'utilizzo e l'impiego delle tecniche speleo alpino-fluviali e anche attrezzature NBCR per un eventuale lotto o comunque rilasci di sostanze tossiche in materia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. Così il cittadino percepisce ancora di più quello che può essere una fonte o un potenziale pericolo, rischio e sa che comunque ci sono delle persone ci sono dei corpi che eventualmente laddove si dovesse verificare un evento incidentale concorrono per la sicurezza del cittadino stesso. Il periodo è proprio quello degli eventi climatici avversi per cui alcune province della regione siciliana sono state imperversate dal maltempo ed è stato necessario inviare e dare loro supporto con delle squadre aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle loro province parlo nella provincia di Trapani, di Palermo, di Agrigento e abbiamo inviato anche delle squadre operative dal comando di Caltanissetta perché noi abbiamo una strutturazione con colonne mobili regionali per cui a verificarsi di un evento incidentale laddove servono particolari forze in campo allertiamo immediatamente sempre in maniera operativa le squadre operative degli altri comandi limitrofi che prontamente inviano personale e mezzi. Presente anche la sezione nissena dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Ci ha fatto piacere rappresentare i Vigili del Fuoco e trovarci a braccetto con i colleghi gli ex colleghi ma siamo sempre in casa giochiamo in casa ma noi principalmente ci occupiamo di diffondere la cultura della sicurezza soprattutto in ambito scolastico ma anche presso i centri anziani quindi portiamo a questi ragazzi e ex ragazzi la nostra cultura antincendio e della sicurezza in generale facciamo delle belle chiacchierate con degli ausili didattici molto avanzati e ci fa piacere indubbiamente il nostro entusiasmo è proprio quello di trasferire quelle conoscenze che abbiamo acquisito nel tempo durante il periodo di servizio e poterle raccontare neppure il tempo di metabolizzare la sconfitta di Castrovillari per la San Cataldese che domani mercoledì alle ore 15 sarà chiamata ad affrontare il nuovo turno infrasettimanale del Gironei di Serie D i Verdi Amaranto saranno impegnati sul difficile campo del Real Aversa quinta forza del campionato che domenica ha pareggiato ad Acireale la squadra allenata da Pietro Infantino ha assoluta necessità di punti per lasciare l'ultimo posto della classifica così Infantino dopo l'ultima partita sulla pagina social del Castrovillari se noi continuiamo a lavorare così avere questa applicazione a mettere questo cuore senza mai mollare anche nelle difficoltà ci tireremo fuori e sono convinto che questa squadra sistemandola perché non ho brusciuto negli occhi qualcosa manca e si deve sistemare però già ho visto il ragazzo è venuto giovedì il nostro centroavante il 2002 è stato costretto a scendere in campo perché Torregrossa ha avuto un infortunio ieri con l'occhio recuperiamo baglioni recuperiamo tre piedi vediamo il ragazzo cosa si è fatto perché è un 2003 essenziale nell'organico ora ripartiamo andiamo mercoledì giochiamo alla Versa Romagna il quadro completo delle partite della settima giornata Trapani-Lamezia Licata-Sant'Agata Santa Maria-Cireale Ragusa-Canicattì Real-Aversa-San Cataldese San Luca-Cittanova Mariglianese-Castrovillari Vibonese-Paternò Catania-Locri Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia questa profonda area di bassa pressione rimane sull'Atlantico lontano dai nostri regioni quindi per il momento il tempo resterà bello solo con un po' di foschie e nebbie e di noto a primo mattino in Val Padane nelle valentenne del centro se controlliamo la nuvolosità infatti vediamo come sull'Italia non siano presenti annuvolamenti sostanziosi e con l'umidità che però si trasforma appunto in nuvole basse e foschie anche dense nelle prime ore del mattino come precipitazioni nulla da segnalare non ci sono nuvole come potrebbe piovere quindi insomma situazione davvero più che tranquilla e con clima anche particolarmente mente forse questo è l'argomento principale con le temperature che riescono a toccare anche i 25-26 gradi in diverse ocaità le regioni tirreniche quelle dove le temperature raggiungeranno le punte più alte tra l'altro anche di notte a primo mattino non fa particolarmente freddo per il resto guardate tanto sole in tutta Italia ripeto inizio giornata un pochino più grigio in pianura padana nelle valli interne del centro per la presenza di nebbie e foschie e un po' di nuvolosità bassa in Liguria e sull'Alto Adriatico per sapere nel dettaglio fino a quando andremo avanti così consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Croce Verde Viale della Regione Servizio notturno Centrale Corso Umberto Caltanissetta